Altro appuntamento con la musica, venerdì 30 dicembre, sempre in occasione del Tao Christmas Fest, la Basilica Santi Pietro e Paolo di Acireale ha fatto da cornice all'esibizione musicale dell'orchestra a pletto della città di Tormina, un vasto repertorio che abbraccia musiche di Verdi, Bellini e Morricone. Siamo felici di aver avuto la possibilità di fare questo concerto qui ad Acireale, è stato per noi un piacere poter eseguire con l'orchestra a pletto della città di Tormina una formazione che ha più di cento anni di storia, alcuni dei brani che fanno parte del nostro repertorio. L'orchestra a pletto della città di Tormina è una formazione, una delle poche formazioni presenti in Italia dedicate appunto alla musica a plettro. La musica è arte, il suo scopo è quello di cercare il bello, regalare emozioni che raggiungano l'anima, perché lì dove le parole non arrivano la musica parla. La musica è arte, il suo scopo è quello di cercare il bello, regalare emozioni che raggiungano l'anima, perché lì dove le parole non arrivano la musica parla.